Secondo, quello che voglio dire io, avere sempre il pennello bello pieno di tinta, no? Bello pieno. Allora, quando vai a mettere sulla tinta... Ma la tinta sulla cute dà qualche problema? No, no, bisogna vedere uno su un lato. Comunque, ascolta bene, vedi? Il pennello deve essere pieno, però siccome che si fanno due colori, questo qui lo voglio precisare, non arrivare fino qui e basta, perché sennò rimane la riga. Allora, quando si dà sulla tinta, si dà sulla tinta bello morbido, anche sotto bisogna darle, però bisogna sempre attendere a sfumare, perché sennò rimane la riga, a sfumare. Poi quando si dà gli altri che sono aspettati 20 minuti, allora dove c'è la sfumatura? Senza che uno riprende di qua, deve riprendere di qua e sempre sfumare. Fino in fondo. Fino in fondo, allora hai un tipo di tinta che va bene. Capito? Allora, ti ho fatto vedere il bianco, perché questa è una tinta di due settimane fa. Andiamo a vedere. Quindi non deve essere così, insomma? No, no. Diciamo, la ricrescita non giustifica. Adesso non andiamo a vedere tutti insieme, che può durare anche due mesi con la tinta, perché lei sotto qui noi li facciamo diventare bianchi. Poi sopra facciamo un'altra tonalità, che sarebbe un grigio chiaro. Grigio chiaro. Allora, cosa succede? Il grigio, no? Il grigio che io avevo fatto sotto la radice. Allora, tu ce l'hai colino da chi? Il numero. No, colino da il mio numero. Il profilo. Il profilo. Qua ci sopra, che vediamo quella viola, che voglio fargli vedere a lui che grigio di solito si fa.